E bel attimo ragazzi sono Gilberga e sono qui oggi regà a portarvi un video in cui vi mostro Quelle che sono regà i cinque cerchi di fuoco che si trovano all'interno della mappa Vi ricordo anche che ho preso in prestito questo video qua da uno youtuber americano Quindi trovate il link in descrizione ma in basso alla vostra sinistra trovate anche il suo nome Quindi se volete andare a cercarlo lo trovate Regà su dire che possiamo partire vi mostro i cinque posti in cui si trovano i cerchi di fuoco Allora regà il primo che troviamo lo si trova davanti a Lazy Links che è quel borgo bislacco fake Perché in realtà è fake non dovrebbe chiamarsi borgo bislacco Non so quando giustaranno quella roba lì Quelli di Epic Games ma il primo lo possiamo trovare qua Come vedete le grafiche in basso lo youtuber si chiama Harry94 In basso a destra vi segnala anche quale delle cinque sono Questa qua è la prima La seconda la troviamo qua dove vi sto portando adesso È abbastanza vicina infatti ci va direttamente dall'altra a questa Quindi la trovate qua dalle miniere vicino al motel Queste qua erano le prime due La terza invece la troviamo vicino a Spiagge Snob Come vi sta indicando esattamente adesso Non dovreste avere problemi a trovarle perché ve la indicate perfettamente Quindi vi chiedo anche di passare perché ha fatto veramente un bel video Vedete che ha fatto proprio bene Quindi se volete essere ragionati sulle sfide basta che lo seguiate Un'altra ancora la troviamo vicino al campo da calcio Quello che è vicino anche a Tilted sotto la montagna dove ci sono i carrelli sopra Lo trovate qua dove c'è la rampa quindi nessun problema a trovarla Proprio esattamente lì quindi non dovreste avere problemi La quinta invece la possiamo trovare nella montagna Quella vicino al laboratorio della latrina Vicino a Gabbo Town e vicino alla sedia Quindi regà nulla a dire che il video può finire qua Vi ricordate di lasciare un bel like Niente ci becchiamo direttamente al prossimo video Ciao